Com'è che funziona sta cosa? Che dite? Ci proviamo? Bene, ho deciso di girare il mio primo video di prova e con che cosa compro come studentessa, ex studentessa, fuori sede. Quindi qua proteine, carne rossa, buonissima questa marca, davvero davvero molto buona, sono molto soddisfatta di averla trovata. Tacchino, che non manca mai, al banco, costa molto di meno, quindi conviene prenderlo al banco, pollo, cioccolato, che non c'entra molto con le proteine, però ci piace, 85%, mandorle, immancabili, lo zenzero per la colazione, o meglio per quando mi faccio a colazione, un bicchiere di acqua tiepida con zenzero e limoni, limoni via, un po' bruttino. E verdure. Qua abbiamo i germogli, sono ottimi, mi piace sentirli sprocchiare sotto i denti, tra i denti. Quindi questi, zucchine, che non mancano mai, ma proprio mai mai, pinocchi, che non mancano mai mai. Abbiamo due pesche. Ha! Mio amore! Io amo l'albume d'uovo, immancabile nel frigo, quante volte sto dicendo immancabile. La Coca Cola Zero, in caso di necessità di aperitivo, insalata e il prezzemolo, ma perché di verità ho sbagliato. Volevo prendere la menta e invece ho preso il prezzemolo. Vabbè. Questa è la tipica spesa che faccio di solito io, e come potete vedere i miei occhiali finti stanno sempre con me. E niente, cucina. Carina, carina. Basta, volevo soltanto aggiornarvi, questo era il mio primo video di prova. Come vi ho detto, volevo provare ad aprire anch'io un canale YouTube, che riguarda alimentazione, quindi spesa, cosa mangio in un giorno, ricette, cose del genere. Esercizi fisici da fare in palestra, quindi sia cardio, sia esercizi, diciamo, con pesi. E se riesco, anche yoga, quindi passaggio... Passaggio? No. Come si può dire? Passo dopo passo, come si fa una posizione di yoga. Non che io sia così tanto esperta, però ci proviamo, dai. Se vi fa piacere, seguitemi e mettete un like. Non ho finito, alla fine mi sono tagliata il filoacchio. Mangerò adesso la merenda. E niente, comunque sono aperta a ogni tipo di suggerimento, quindi se vi fa piacere seguirmi o dimmi che cosa volete vedere, sono qua per voi. No, ti ho finito, perché... No, ti ho finito. Grazie a tutti.